Scelgo Full Service, da 39 anni, punto di riferimento nel canale Cash & Carry, in Abruzzo, Marche e Molise, specializzato nel settore della distribuzione all'ingrosso, festeggiato l'apertura del quarto punto di ritiro a Montesilvano, in via Giuseppe di Vittorio IV. Apri a Montesilvano questo click and carry, questo punto di ritiro di commercio all'ingrosso, vogliamo spiegare un attimo Arianna come è strutturata la vostra azienda e questo punto di ritiro, qual è la novità? Scelgo, la nostra azienda esiste da 40 anni nel settore e opera all'interno di tre regioni, Marche, Abruzzo e Molise e opera attraverso sei cash and carry, quindi sono superfici di circa 5.000-6.000 metri quadrati con all'interno circa 20.000 referenze. Oltre al cash and carry tradizionale abbiamo affiancato il servizio di delivery, quindi la merce che arriva presso l'attività dei nostri clienti e questo nuovo format innovativo, ovvero un punto di ritiro, il che significa che il cliente può ordinare la merce attraverso un sistema online, attraverso il nostro sito www.shakeofoodservice.com e reperire la merce in questo punto di ritiro, avendo così la comodità di fare una spesa molto frequente, fare poco magazzino e ricevere la merce tra freschi, congelati e tutti quanti i 20.000 prodotti che disponiamo all'interno dei nostri cash and carry. Quindi è un format che va vicino al nostro cliente, noi abbiamo il cash and carry a Pescara, Villanova di Cepagatti e a Montesilvano con questo punto di ritiro ci avviciniamo ancora di più ai nostri clienti. Il punto di ritiro si struttura così, se entriamo? Certo, ce lo fai vedere un attimo. All'interno di questa struttura avviene sia il ritiro della merce ordinata, quindi qui dietro c'è il magazzino, le celle frigorifere e i congelatori, e quindi abbiamo lo stoccaggio della merce che viene poi ritirata dai clienti e comodamente portata e caricata all'interno delle autovetture. Nell'altra parte invece c'è l'esposizione dei prodotti, circa 1.500 referenze, anche qui abbiamo surgelati, freschi, tutta quanta l'enoteca, la pasta, una serie di settori che poi vedremo più nel dettaglio, che sono settori che più che altro sono legati ad un'esposizione che possa ispirare un po' la nostra clientela, quindi fargli percepire le principali tendenze del momento e un po' spingerli all'innovazione, perché poi per i nostri clienti questo è l'elemento principale e differenziante. Andiamo a fare un giro. Sì. 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 Per noi Montesilvano è una piazza molto strategica per proseguire il nostro sviluppo, serviamo circa 25.000 clienti nelle tre regioni, Marche, Abruzzo e Monise, e negli ultimi anni abbiamo implementato una serie di servizi, tra cui la delivery, con una grossa forza vendita, poi abbiamo un grande e-commerce come strumento di riordino per i nostri clienti, infine questi punti di ritiro che sono ulteriori punti di contatto per i nostri clienti. Qual è il vantaggio di questo tipo di store delocalizzato? Innanzitutto il cliente può accedere qui a 1.300 referenze, poi ha un catalogo di comunque 20.000 referenze che può ritirare o la mattina o il pomeriggio. L'altro vantaggio è che si trova comunque in una piazza molto importante, come dicevamo, per Montesilvano, quindi è un ulteriore punto di contatto per i nostri clienti. Quindi un'attenzione al cliente, garanzia di merce fresca stoccata adeguatamente, poi c'è anche la possibilità del delivery. Del delivery, esatto. Il delivery è un altro punto di contatto per i nostri clienti, è supportato da una forza vendita fatta da funzionari diretti e da customer service. Il cliente può fare l'ordine online accedendo a un catalogo di circa 20.000 referenze. L'ordine può essere fatto la mattina, la sera, la notte per il ritiro in aperato, quindi il giorno successivo, o se fa l'ordine la mattina anche per il pomeriggio stesso. All'interno di questo punto vendita di circa, di oltre 700 metri, ci sono circa 1.300 referenze. Il nostro personale, diciamo qualificato, è pronto a assistere il cliente in tutte le sue fasi. L'assortimento è composto da prodotti di servizio e prodotti molto differenzianti, in modo da ispirare il cliente di avvicinarlo sempre di più al nostro modello. Il nostro modello è fatto da un negozio fisico, che è il cuore della nostra attività, circa 6.000 metri, e poi da tanti punti di contatto che offriamo al nostro cliente. Abbiamo parlato della delivery, abbiamo parlato dei funzionari, quindi dei consulenti, abbiamo parlato del customer service, abbiamo parlato dell'e-commerce, che è un ottimo strumento di riordine, e infine questi punti di ritiro che sono, come dicevamo prima, un ulteriore punto di contatto per i nostri clienti. Vogliamo parlare un attimo di questo nuovo format e spiegarlo alla vostra clientela un po' nel dettaglio? Sì, il cliente praticamente può interagire con noi in diverse forme, quindi può fare il suo ordine in autonomia, quindi usufruendo della nostra piattaforma e-commerce, dove troverà 20.000 articoli, quindi tutto l'assortimento gestito, può comodamente ordinarlo, sia in autonomia o comunque possiamo aiutarlo noi, c'è il customer service, ci sono diverse opzioni per effettuare l'ordine. Può decidere di trovarlo in questi nuovi punti di ritiro quando vuole, scegliendosi sia la giornata che la fascia oraria. Arriverà a ritirare l'ordine nella fascia oraria che ha deciso e la sua merce sarà pronta. In più ha l'opzione, approfittando comunque di uno store interno, dove trattiamo circa 1.300 referenze, di poterlo integrare. Quindi è una per A, una per B, diciamo, quindi il giorno prima per il giorno dopo. E diciamo, qual è il tipo di clientela a cui è rivolto questo tipo di store? Allora, noi lavoriamo comunque con le attività, quindi i possessori di partita IVA, quindi siamo incanalati in quel settore lì. Ovviamente andiamo a servire i bar, i ristoranti, le pizzerie, gli alberghi, quindi un po' tutto quello che riguarda il discorso dell'Oreca Retail, quindi nel mondo dell'Oreca Retail. Quindi chi fosse interessato può cercarvi sul sito internet o venire qui proprio in questi punti vendita? Certo, anzi, possono farlo sia in autonomia andando su www.scelgofulservice.com, oppure possono venire direttamente qui in negozio dove li aiutiamo a spiegargli anche questo nuovo format, che sembra complicato ma è facilissimo, quindi noi siamo a disposizione e li aspettiamo tutti, quindi siamo a disposizione. Eccoci, eccoci. Eccoci, eccoci. Vi abbiamo presentato i responsabili di questa meravigliosa azienda, un'azienda familiare che ha una storia antica di 40 anni a cui auguriamo altri tantissimi anni di grandi successi, un'azienda che punta sull'informazione, vi abbiamo presentato i numerosi servizi disponibili a clienti e parliamo adesso di un altro aspetto fondamentale per l'azienda, stiamo parlando della formazione e ne parliamo con Stefano che è l'esperto di formazione. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di questo piccolo intervento, per noi la formazione ormai è diventato un punto cardine dell'azienda, scelgo full service e rientro appunto nel pacchetto di gestione del cliente, quindi andandogli proprio a focussare quella che è la propria crescita, trovandogli dei prodotti innovativi e soprattutto dandogli la possibilità di farlo crescere con dei progetti. Uno di questi progetti naturalmente è avere gli amici come Nicola Fossaceca, che comunque non ha bisogno di presentazioni, una stella Michelin, ristorante al metro a San Salvo, cioè una persona che comunque già di suo, da oltre 15 anni fa parlare del suo ristorante e delle sue qualità. L'abbiamo chiamato perché lui è un innovatore ma soprattutto è un amante della materia prima, materia prima di alta qualità. E infatti la sua presenza, Chef, rappresenta appunto, suggella questo patto con il cliente basato appunto sull'attenzione alla materia prima. Sì, l'attenzione alla materia prima fa tanto per l'operatore, quindi il ristoratore, il cuoco, ma è importantissimo appunto per il proprio partner, quindi per chi fornisce le materie prime. Quindi se alla base c'è chi è già molto attento a fare una selezione su una materia prima, il nostro lavoro sicuramente viene reso molto più facile, molto più scorrevole, quindi di questo insomma siamo contentissimi. Ecco, questa è una giornata particolare, una giornata di festa. Lei ci ha regalato un piccolo show cooking, ci vuole parlare dei piatti che ha presentato oggi. Sì, sì, un piccolo show cooking con tre piatti, quindi tre piccole coccole, uno scampo crudo recuperando tutti i suoi umori, abbiamo creato una royale di scampo, dell'aglio nero e un croccante di scampo e un mandarino cinese, quindi un piccolo boccone, un'entratina. Poi c'è una seppia, anche lì un piccolo roll, una seppia ripiena della sua stessa seppia, quindi dell'interiore e della testa, quindi creiamo un boccone fresco, sapido e lo completiamo con del latte di mandorla. In ultimo invece, per uscire fuori dal binario pesce, ci è venuto in mente di fare un tacos. Un tacos viene di uno stracotto di carne, una maionese di ostrica, perché è un piatto che facciamo al ristorante, è vitello e ostica, allora per portarlo qui in maniera più pratica per tutti, per gli amici, insomma abbiamo creato un finger, un tacos da assaggiare in un boccone. Complimenti! Grazie, grazie a voi. Vogliamo lanciare un messaggio a chi fosse interessato ad approfondire il discorso della formazione? Assolutamente sì, naturalmente per noi la formazione, ripeto, è un momento di grande crescita con professionisti come Nicola, un momento in cui sono i nostri clienti, basta rivolgersi al proprio direttore, al proprio consulente, in modo tale che ci mettiamo subito in movimento per creare proprio un pacchetto ad hoc per il cliente finale. Ci vuoi raccontare un po' la storia di questa azienda, perché mi stavi dicendo che è una storia che ha delle origini importanti? Sì, siamo fortunati perché oggi è un'azienda giovane, vedete un'azienda giovane, ma in realtà i valori alla base di questa azienda ce l'hanno trasmessi i soci fondatori, quindi uno mio padre, uno Luigi Sideri, che è alle mie spalle, vuole mantenere l'anonimato e fondamentalmente i valori che li hanno guidati nella creazione dell'azienda vengono un po' tramandati, quindi l'azienda si è organizzata, è diventata un'azienda a gestione manageriale, ma ovviamente i valori che ci hanno trasmesso rimangono la parte fondante, un po' di noi e di tutte le persone che ci lavorano. Con il suo modello innovativo full service, che offre al cliente prodotti, servizi, consulenze, e-commerce, formazione, delivery, garantendo il rispetto degli elevati standard qualitativi e una filiera efficiente, l'azienda continua a guidare l'evoluzione del settore cash and carry. Uno, due, tre, vi accettiamo!